Cagliani per Roccia che è del cuoco con il tacco e arriva il gol splendido che ristabilisce la parità, la Sampdoria fa 1 a 1 1 a 2 e si giude in qualche modo dentro a giro, gol splendido, 2 a 2 la Roma trova un gioiello Marchetti molto bene e la chiude girandosi e facendo un super gol Valentini il tiro, palo gol, 3 a 1 accorcia le distanze Di prima il lancio verso il Coronato che la protegge, attaccato da Moschetti, Coronato con il sinistro porta in vantaggio la fraschetta del Pesce Express